Alex, una vittoria importante contro la prima contendente per il titolo, c'è soddisfazione? Certo, è stata una vittoria importantissima con un confronto diretto, un confronto di sei punti e penso che abbiamo fatto bene. Alex, il gap con Napoli si è ulteriormente incrementato o pensi che rivedremo lo stesso duello dello scorso anno? Secondo me i Juve e Napoli saranno vicini fino alle stagioni, sono due squadre fortissime che lavorano tanto e stanno sempre bene. Alex, i tifosi chiedono spesso del tuo futuro, rinnovi il contratto o continui a trattare? Sto pensando solo a questo contratto che ce l'ho adesso. Alex, questi godi contro i tifosi del Napoli non hanno stufato anche un po' voi? No, secondo me è normale prendere i gol nel calcio. Codi, codi, ho detto voi dei codi. No, scusate, forse non ho capito. Ecco. Dice che è un sito al Bruno con l'Olincia contro il Napoli. No, non l'ho visto, non ho sentito neanche. Grazie. Un'altra domanda. Posso fare in italiano per tutti i capigliali. Come vedi questa adattazione di Ronaldo nel 6-5 oggi? Sembra veramente che è stata la sua partita migliore da quando è arrivato alla 3-A, si sta lottato anche per la squadra. Come vedi nell'allenamento oggi? Come tutti Cristiano sta crescendo, sta capendo il nostro modo di giocare. anche noi, capendo anche Cristiano, però siamo in una giusta strada. Grazie. Grazie.